Sono molto contenta, i ringraziamenti naturalmente vanno alla società, a tutto lo staff e soprattutto alle giocatrici. È sempre una grande emozione e un grande piacere essere qui per la terza volta consecutiva. Ho la fortuna anche di incontrare e di confrontarmi con degli allenatori che hanno fatto la storia del calcio. È molto bello e si impara tanto anche in queste giornate. La Serie A è un campionato molto più difficile, molto più complesso. Non stiamo andando benissimo, ma anche questo premio può essere in questo momento difficile e anche un po' di gratificazione che serve anche a me e anche alle ragazze, perché naturalmente è un premio che inorgoglisce, credo, tutte. Quindi può essere uno stimolo ulteriore a cercare di mantenere la Serie A e sono convinta che faremo il massimo fino alla fine. Siamo troppo influenzati dal risultato nell'analizzare le prestazioni. Io ritengo che invece un allenatore debba avere un occhio un po' diverso. Nel primo tempo ho visto una squadra che ha fatto una buonissima partita, una squadra che si è approcciata bene alla gara, pressando alto, andando ad aggredire, gestendo bene la palla, provando sempre a costruire il gioco da dietro. Queste sono le basi, secondo me, fondamentali per giocare a calcio. Dopodiché è evidente che se non riusciamo a sbloccare il risultato e se subiamo gol, spesso per nostri errori naturalmente, la partita poi diventa in salita. E non dobbiamo assolutamente né demoralizzarci né abbatterci perché credo che si stia facendo un lavoro importante, stiamo costruendo qualcosa di importante e purtroppo spesso i risultati influenzano tanto. Naturalmente, se vogliamo mantenere la categoria, il risultato non può essere una cosa che passa in secondo piano, questo lo so benissimo anch'io, però neanche demoralizzarci così tanto perché essere stati per 45 minuti alla pari di una squadra prima, quantomeno alla pari di una squadra prima in classifica, la dice lunga sulle possibilità che abbiamo. Tirare fuori tutto quello che abbiamo, tutto quello che abbiamo dentro, dal carattere alla determinazione, alla voglia di arrivare comunque al risultato, ripeto, partendo da basi che secondo me noi abbiamo e stiamo costruendo in maniera fortemente positiva. Poi per vincere, e questo lo ripeto sempre alle ragazze, ci vuole tutto, tutto. Quindi per poter riuscire a fare i tre punti in ogni partita davvero bisogna dare l'anima e non solo, anche qualcosa in più. Ma ripeto, molta fiducia e vedremo alla fine perché noi abbiamo ancora l'obiettivo lì a portata di mano a un punto e quindi di partite ne abbiamo e sono certa che la squadra farà il massimo. Gli infortuni sono stati talmente tanti in questa stagione che davvero ho perso quasi il conto. ma soprattutto ho cercato davvero di non parlarne perché non volevo che questo potesse essere un alibi intanto per me, in primis, e poi per la squadra. Sto cercando invece di andare avanti, la realtà è questa, speriamo di recuperarle naturalmente perché più ho una rosa ampia a disposizione e meglio è per me, questo è evidente. però bisogna poi fare sempre i conti con la realtà, quindi le ragazze che ho a disposizione lavoro sempre con quelle e tutte insieme senza nessun alibi dobbiamo cercare di fare il massimo.